Come sta andando il mercato del credito alle famiglie e in particolare il settore dei mutui? Non è un segreto per nessuno che il mercato italiano dei mutui è in forte contrazione, stiamo parlando di un 60% anno su anno. La cosa interessante è capire quali sono le ragioni di questo fenomeno e da un lato c'è sicuramente una restrizione dell'offerta da parte delle banche che soffrono delle tensioni legate alla crisi dei debiti sovrani, ma il problema più grave è sicuramente lato domanda, dove i consumatori sono sotto forte pressione legata alle incertezze sulla situazione economica, politica e anche su aspetti fiscali. Questo è l'ostacolo principale per una ripresa del mercato che non è prevedibile prima delle prossime elezioni politiche e che comunque resta incerta. In questo contesto, quale potrà essere l'impatto della nuova normativa sulla distribuzione non bancaria dei prodotti di credito? Purtroppo la nuova normativa entra in vigore in un momento di forte contrazione del mercato e quindi aggiunge pressione sulla distribuzione del credito che già sta molto soffrendo. La nuova normativa comunque porterà dei grandi benefici, soprattutto in termini di trasparenza solidità del canale distributivo. La normativa soprattutto forzerà un mercato di pochi operatori strutturati, i cui collaboratori sul territorio lavorano in esclusiva e porterà una molto maggiore compliance rispetto a quella del passato. Quindi si passerà da una situazione in cui c'erano veramente centinaia, migliaia, decine di migliaia in tutte le regioni di persone che si offrivano come intermediari del credito, una situazione in cui ci saranno poche aziende, un numero limitato di aziende strutturate con del personale qualificato che lavora in stretto contatto con la struttura centrale. Io credo che questo sarà un grosso miglioramento ma porterà molto dolore per gli operatori del settore che saranno costretti a reinventarsi in alcuni casi e molti singoli purtroppo non riusciranno più a operare anche per i costi aumentati in questo nuovo contesto. La normativa mira una distribuzione trasparente, efficiente e vicino al consumatore. Cosa possono fare le banche? Da un lato, come abbiamo detto, questo è un momento di difficoltà del mercato perché c'è un forte calo dei volumi. Dall'altro è necessario avere una ristrutturazione della distribuzione del credito. Le banche credo che abbiano interesse a focalizzare i propri sforzi su pochi operatori nella distribuzione di alto standing reputazionale su cui investire. Per un po' di tempo, sicuramente per 12-18 mesi, i nuovi operatori della distribuzione saranno soggetti a forti tensioni economiche perché c'è poca domanda soprattutto e perché non saranno ancora spariti dal mercato tutti i soggetti che ancora ci sono e che non sono sostenibili. Quindi io credo che le banche debbano valutare quelli che sono gli operatori più solidi o su cui per loro ha senso investire e su questi fare uno sforzo sia di relazione sia anche in qualche modo di sostegno economico perché solo una distribuzione di soggetti affidabili di reputazione può garantire un credito sostenibile per le banche. Un ultimo esempio, per esempio, ci sono alcune cose anche a livello di modelli organizzativi che le banche possono fare. Avere un intermediario che opera con un modello centralizzato, per esempio, può essere una garanzia maggiore che avere degli omini, tra virgolette, che vanno a trovare la banca in tutte le filiali perché questo si presta a tutta una serie di piccoli abusi che poi hanno potenzialmente un impatto sulla qualità del credito. Quindi è veramente importante una selezione da parte delle banche.